Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di Demanding of Isaac Afterbirth Plus io sono Ser e questo è un grid di armado perché ho bisogno di rilassarmi e quindi ci facciamo una grid in sciallezza wow un cuore blu e chiavi un danno in più non tantissimo ma ah al costo di 5 possiamo prendere un oggetto gratis bombe infinite praticamente va bene facciamolo ci aiutano a rerollare le bombe come se il di sé non bastasse vogliamo provare a romperlo? cioè tentiamo la rottura del gioco? non lo so solo un po' lui quanto è vicino chi c'è? uno che morirà in fretta perfetto non lo so uno che morirà in fretta non lo so 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 però non lo so 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 è quanto è piccola quella testa il rumore è bellissimo si posso usarli anche in maniera offensiva adesso che ci penso naturalmente tante questa è una quantità di HP più vicino a infinito di quanto si perde e vabbè allora tu sei ancora qua è troppo piccolo vieni 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 è troppo vicino perfetto allora con 5 ci prendiamo questo a 0 vieni per favore questo grazie vediamo se qua ci danno altre monete qua che ci hai dato una moneta mi sta bene e anche un'altra bomba grazie con cui rivolveremo qua probabilmente c'è qualcosa qua c'è qualcosa qua non c'è molto interessante questo si dipende il patto con il diavolo com'è questo carica 4 volte è proprio il più fastidioso non c'è mezzo no eh oh nessuno per serio vieni giù perfetto qui Grazie. Perfetto, spingerli verso le cacchie e funziona. Il peggior poto del diavolo degli ultimi vent'anni. Beh, c'è anche quello a oggettino, forse è anche peggio, effettivamente. Andiamo giù. Ho deciso che il screwdriver non era interessante. Allora, guardiamo prima qua. No, questo sì, questo ci dà due bombe e un cuore, se no, bombe non mi interessano, potrei prendere questo e effettivamente questo. Adesso altre bombe dovrebbero cavitarci. Speriamo che basti Jesus Juice a fa' sta roba perché... Io avverto come c'ho una carica del D6 blocco. un po', eh. Interessante. E appunto. Ci sono addirittura due adesso. Una volta frizzavi le stanze però, eh. Bastardo. Tanto facciamo così. Puliamo un po' la stanza. Va bene. No. Magicotto dove era? Qua. HP Up no. Assolutamente sì, Binky. Vediamo qua che ci dai. Robetta. Vediamo qua che ci dai. La stampella. Anche sì. Oh ecco, Tanger. Non è male. Tu mi stai lo cazzo. Quindi salti in aria. Ah, dobbiamo arrivare a 15. Ok. Si può fare. Ah, volevo. Vabbè. Cioè il ragno che ha spawnato era più grosso di lui. Ok. Quanto meno sono finiti, no? Ce l'hai fatto a frizzarli, bravo. Dopo che mi hanno colpito però l'hai fatto. Che non è particolarmente conveniente. Ma dai, manca veramente così poco? Una sola moneta? Va bene. Morite tutti. Cazzo. No, tutto ce l'ho non mi preoccupa. So che sembra strano. Ma tutto ciò non mi preoccupa. Cazzo, so i milk. Beh, ma far sparare meno di 5 conviene. Non so quanto mi sia convenuto, no? No. Merda. Usiamo la stacchiave, no? Prendiamo la batteria. E tentiamo il tutto per tutto. Ok. Ma sta versione è curiosissima se fa sta roba. Eh sì. Ma fa veramente. Il fatto con l'angelo non è che lo volessi proprio, eh. Prima lascia la chiave. Non sei Sansone, non prendere danno a cazzo. Grazie. Vabbè. Vabbè. Le body ci sto. C'ero nati in TED. Sì, l'ho vista dopo. Vediamo subito gli oggetti qua. Cazzo. Poi tu. Guarda. Piuttosto mi riempio l'HB. Ok. 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 Voglio l'HB. Oh no. 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 Cazzo sì. Ecco, questa è proprio l'unica stanza segreta che non ha senso. Vabbè. Allora, dobbiamo raggiungere i 30. Guarda. qual'ho preso. Ok. 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 abbiamo finito? allora, boove infinite e faccio prima sta cosa ok poi voglio prendere sento il ok è rimasto wow vediamo cosa c'è di là non è stato Buco Ravidation Ci prendiamo un HP Oh yes, il vuolo E un HP Poi qua ci andiamo a prendere un altro oggetto gratis Che è il D1 No Va bene Niente oggetto gratis Adesso mi servirebbe un super qualcosa Allora, sarebbe la seconda No, questo va a risollato Non c'abbiamo una batteria No, che inizia No Non mi dispiace Faremo così Poi ci si pensa di rullarle Ok Ma basta Ho visto occhi Merda Dai Allora Abbiamo dei reroll Assolutamente sì Demoling non ci piace Preferisco i soldi all'HP Soprattutto se sono tanti Abbiamo un sacco di bombe Un sacco di robe No No, non è quello Cazzo Questo lo devo fare al forza Potremmo rompere il gioco Se uscisse fuori Una blank card Per esempio Ancora si è rotta Ancora si è rotta sta roba Ok, ora si è rotta Questo ci dà HP No, non mi interessa niente L'unica speranza E' che Ciccio Pasticcio Ci dia Effettivamente Speravo che Ciccio Pasticcio Mi desse una carica Ma non l'ho affatto Cazzo doppio de blotto Veramente Merda, 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 merda Aspetta, no Non so come gestirlo Fai tu Qua ci puoi arrivare, no? Campos, ma vaffanculo un po' Ma abbraccia pure tranquillamente tutti Non so come possa funzionare francamente questa roba Non credo che lo faccia Semplicemente, però vabbè Allora, mi serve Blank card E un Serve un po' troppa roba Ma cazzo è vero che adesso sono spettrali Oh, proviamoci Adesso è un problema Però, è un problema No, non esplodono più sulle rocce Mi hai detto che sia un po' Oh, oh, oh Sto venendo a venendo a venerlo Oh, oh Ok C'è una cazzo Questa è una rapina Una rapina in quanto ho una piccola rapa, eh Mi raccomando Ricordatevelo Sono le cose importanti della vita Perfetto Niente di meglio Eh, ho capito Mi te lo prendo Oh, che palle Qui niente Neanche qua Vabbè, ti prendo Ma fai tanto danno? Quanto danno? Non mi sembra Quanto sei in merda Allora Abbiamo finito Questa l'ho presa qua, no? E qua posso ancora dare una relata? No La posso dare dopo Sì Ok Ah, ma non ho premuto io che sbaglio Sì Sta bene, però non Non avevo idea E qua cazzo esce Scusa No No È Sì 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 Grazie. E quanta sei stronzo, però. Va bene. Non è neanche qua. Non sto cercando le stanze segrete, ma... Che poi è una cazzata non cercarle, perché... In realtà c'è sempre roba... Interessante. Cazzo, Blankard. Cazzo, Blankard, e posso già fare giro. Allora, cosa prendiamo? Prendiamo questo e in influente. Questo e in influente. Anzi, lo usiamo anche. Prendiamo questo. E riprendiamo questo. Così, se facciamo così, torniamo subito. Allora, questo ci garantisce solo carte. Ok. Finalmente. E' quello che cercavo prima. Questo ci fa diventare mamma? Assolutamente no. Questo ci fa diventare gappi, probabilmente. Questo ci interessa. La mitra ha anche. Bobs, anche sì. Pip, anche sì. Il resto di gappi, chiaramente. Può di addire, sì. Perché no? Il cubo of meat fa sempre comodo. Quello non può meno. Facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, e siamo spam. Cazzo, non c'ho soldi. Quindi questo lo usiamo. Facciamo così. 12 diamonds. Dopodiché, le attive le prendiamo tutto. E siamo grappi. Siamo grappi un po' grossi. Dopodiché, questo lo usiamo, questo lo facciamo. Justice lo usiamo. E' ok. Dopodiché, il foamy guarda riusci a prenderlo. Questo lo usiamo, non so come. Questo anche. Vieni qua. Perfetto. Dopodiché posso fare così. Questo è una bella. Questo non mi interessa. Questo non ho ancora capito che fa. Questi vanno bene. Sono delle tele. Ok. Prendiamo questo. E facciamo così. Prendiamo questo, ci danno HP. Prossimo giro. E giustamente ho finito le cariche. Chissà perché ho preso un request, ma ok. Contract from below. Cricket's head. Che non ci aumenta niente, chiaramente. La colomba la trovo abbastanza inutile. Abbiamo fatto i nostri porci comodi? No. Mi sembra. Siamo diventati quasi tutto. Ecco. Halo. Non mi dispiacerebbe. E c'è la batteria in altra volta. Quindi. Ricominciamo l'altro. L'immaculate. Sì. The soul. Schifo. Non fa. Non so che cos'è quello. Un breakfast. Aspetta un attimo. Che cosa siamo diventati? Un fungo? No. Chissà. Va bene. Vabbè. Prendiamoci un po' d'HP intanto. The habit va bene. Dopo di quale? Questo. Una zampa di cappi. Ah no. Non so che sto prendendo. Fermalo. Vieni qua. Ma io direi basta. Facciamo così. Facciamo. Così. Allora. Questa sì. Questa sì. Questa sì. Spanna ci eravamo già diventati. Mi so. Questo non lo so. Ci devo pensare. Questo lo usiamo. Questo lo prendiamo. Questo lo dobbiamo bloccare. Questo possiamo prenderlo. Dopodiché facciamo così. E questa la possiamo prendere. Questa la possiamo prendere. Te te prendo. Te pure. E facciamo così. Di Bob. Non so che cosa mi manca. Niente. Perfetto. Non credo che conti nel giro dei... Te sì. Perché non c'è un problema. Te sì. Perché fai figo. Come vedete anche una carta che... Judgment. Judgment. Tutamente Rumble. Sto prendendo. Questa che è? Two of space. Di Empress. Non credo. Siamo autotica. Two of clubs. Siamo facciamo così. Spariamo della roba veramente pesante. Infestation 2. Questo. Non mi dispiaceva. Devo dire la verità. Va bene. Penso ci siano divertiti abbastanza. Non so. Sto cercando di farmi interloccare su che cazzo è sta roba. Ho preso robe. Non so che cosa. Wow. E' un casino. Chi era? Io non ho capito. Continuo a non capire cosa succede. Ok. Cioè sì. So che fanno più di 100 danni i miei cosi. Quello sì. Wow. Va bene. Facciamo così che vanno. E io non so che cazzo fa sto cosa. Rivo del bilanciamento. Va bene. Non so che cosa fai. Wow. No vabbè mi tengo la roba che c'è. Tanto non so che a che serve. Però aspetta. Quello in realtà. Fermo un attimo. Questo è quello che ti spinge. Bounce back. Giusto. Eh i ragni fanno tipo 400 di danno. Eh sì. No fanno due volte e mezzo i ragni. Quindi fanno 250. Ma sì. Non mancava l'alimento. Beh. Sai quelli danni divertenti no? A parte il danno che fa. Sì è abbastanza ridicolo. Però lo faccio sempre per divertimento. Ranna con... Con Isaac. Sempre divertenti. Preoccupato dei danni zero. Dai non era male. Mi sono anche un cuore eterno. Oh la mia run rilassata per poter continuare in felicità. A giocare ad Isaac l'ho fatta. Adesso posso continuare a sclerare su The Lost. Quindi ragazzi. Grazie di tutto. Spero vi abbia divertito il video. Visto che abbiamo asfaltato Ultra Grid. Senza nessuna pietà alcuna. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da ser. Ciao. Ciao. Ciao.